Salve a tutti, come state? Come state? Come state? Benvenuti o bentornati sul canale. Finalmente torno con il video che vi avevo promesso sui miei acquisti, che in realtà sono meno di quelli che avrei voluto fare vedere, ma praticamente, allora, vi spiego. Ho fatto un po' di ordini tra Aliexpress e poi avevo fatto un'ordine in un sito di libri, che adesso non mi ricordo se era il Libra, non mi ricordo, comunque un sito di libri, e avevo ordinato appunto due romanzi. che stavo desiderando da non so quanto tempo. Ho fatto l'ordine e nulla mi hanno detto, li riceverai il 21 luglio. Il 21 luglio ancora non erano neanche stati spediti e quindi io ho scritto, ho detto, senti scusa, ma i miei libri. E lui, la persona mi ha risposto no, è che non li abbiamo in magazzino, tipo una cosa del genere, dobbiamo vedere se li hanno in un altro magazzino, bla bla. Insomma, alla fine, ho aspettato altre due settimane e mi hanno detto che uno dei due, che era quello che mi interessava di più, non lo avevano e di me ne avrebbero inviato solo uno. Visto che le spese di spedizione erano altissime perché me ne inviavano dall'Italia, ho detto no. No, e quindi ho annullato l'ordine. E niente, volevo parlarvi anche di questi due libri, ma non ho avuto occasione di leggerli, quindi vi farò vedere solo le altre costine che ho comprato. Allora, la prima cosa che ho comprato è questa, questa camicia, che me la faccio vedere meglio senza microfono. Allora, parliamo di questa camicia, se devo fare una recensione, devo dire molto più bella di quello che pensassi, cioè molto meglio di quello che pensassi. Mi piacciono molto i colori, sono molto vivi, mi sta, è taglia unica e devo dire che mi sta bene, quindi non è né troppo grande né troppo piccola. Fa un suono particolare, sentite, molto ASMR. Fa un suono particolare, un suono particolare, ma ora lo scende. E poi, effettivamente, quando mi è arrivata e l'ho indossata ho detto, mi piace? Ho e o scena. Quindi sono andata a chiedere al mio coinquilino, gli ho detto, Javier, ti piace? Ho e o scena. E lui mi ha detto, quindi insomma, diciamo che chiamo un po' l'attenzione adesso, magari con Non si vede perché non c'è tanta luce, però chiama parecchio l'attenzione, mi sento un po' tipo Billie Eilish Un po' quello stile suono Non so voi cosa ne pensate, mi piace, non mi piace, mi sta bene, mi sta male, fatemi sapere In video ha il suo perché, però bisogna saperla abbinare bene E questa è la prima cosina Poi, 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 poi Un'altra cosa che ho preso di abbigliamento, sempre su Aliexpress E questa maglietta perché costava veramente pochissimo e mi piaceva molto il disegno Sono dei scheletri che ballano, fanno un giro giro tonto, casca il mondo Mi piace troppo, ed è costata tipo 4 euro, cioè veramente regalata Della famosissima marca Zibo Anche questa cosa pensate è eoscena o è fantastica perché a volte mi piacciono delle cose che stanno un po' di lì al limite e non so decidermi A me piace, poi è un tessuto molto, vedete, molto comodo L'unica cosa, se la prendete, prendetela tipo 3 tagli in più della vostra perché questa è una L, credo una L Ed è mista proprio giusta, giusta, cioè come solitamente mista una S, mista questa che è una L, quindi avrei dovuto prenderla forse doppia XL, qualcosa del genere Ecco, prendete molte tagli in più perché le taglie sono un po' così a caso E poi vediamo che altre libri e cosine Allora, parliamo del primo flop perché questa e questa, a parte la taglia, mi piacciono tutte e due Questo invece è un po' deludente Avevo visto questa, come si chiama? Italiano Perché mi viene da dire in spagnolo, fonda, tipo questa copricuscino, insomma E non ne ho messo il cuscino dentro, ma è un copricuscino ed è un po' stile a lui E mi piaceva molto lo stile di disegno e soprattutto il colore, questo verde Mela Con il nero e il bianco Sapete che per me è sempre Halloween Il problema è che magari a vederlo così è anche figa, però vedete i dettagli Il problema è che forse in video non si vede bene, ma è sfocato Cioè, guardate questo disegno Si percepisce bene, però è tipo soffocato Comunque la qualità non è della stampa Vedete anche questo scheletro? Dal vivo si percepisce meglio, però è un po' già sfocato Lo so, mi aspettavo una stampa migliore Non che l'ho abbia pagato chissà quanto, eh, perché anche questo è costato veramente poco Ma, boh, insomma, potevano fare di meglio, diciamo Quindi un po' si e no Già lo userò, però, insomma Un po' così così E poi, poi Ah, tra l'altro a proposito di vestiti e cose così Mi aveva contattato una pagina di Instagram E' una pagina di un negozio di abbigliamento gotico E mi aveva detto Ciao, scusa, vuoi collaborare con noi? E io, ok E praticamente Mi facevano scegliere delle magliette dal loro catalogo E me le vendevano al 50% di sconto Poi io dovevo fare le foto per Instagram E per ogni persona che comprava la stessa maglietta Mi davano tipo il 30% sulla vendita Se cliccavano dal mio link della foto Il problema è che sono andato a vedere il catalogo Tipo, una maglietta costava 80-70 euro E ho detto, what? Cioè, ok che a me me le davano al 50% Però, non lo so Io ho detto già alla fine che ho detto no Perché non mi va di sponsorizzare qualcosa che per me... Cioè, poi ovviamente c'è chi dispende questi soldi E non se ne fa un problema Però io non lo so Non spenderei così tanto per una magliettina A maniche corte 80 euro Quindi... Non voglio fare l'ipocrite Sponsorizzare una cosa che io... Su cui non spenderei così tanti soldi Solo per approfittarne Quindi ho detto no Non vi posso proporre una magliettina di 80 euro Ehi ragazzi compratela Quindi ho detto no È la mia prima collaborazione Tentata collaborazione con un'azienda È fallita Allora... Adesso cercherò di estrarre questo Se non sapete chi è Disiscrivetevi dal mio canale Non scherzo Totoro 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 E io avevo già questo Oh, crollatutto Avevo già... Questo di Kaonashi Del film La città incantata E... Che è troppo figo Però... L'altro giorno ero in un negozietto ho visto lui E io ho detto, lo voglio, anche se userò sempre Kanache, però... Però l'ho voluto prendere perché, a parte, costava tipo 3-4 euro e non lo so, mi fa piacere troppa... Oh my god, ho detto, lo voglio essere io, non so ancora cosa ci metterò dentro. Cosa potrei metterci? Potrei metterci un kit medico da portarmi nello zale? Tipo pedola per mal di testa, cerotti, non lo so. Datemi dei consigli, cosa potreste metterci qui, cosa mettereste voi qui? Che non siano monete, soldi, perché già li uso, li metto nell'altro. Non è troppo carino, guardate. E nulla, questo era tutto. Vi ho detto che poi a fine non era un super super haul. Avrei voluto parlarvi dei libri che avevo comprato, ma ho annullato l'ordine. Quindi, magari in futuro, se riuscirò a trovarli da qualche altra parte, vi farò una recensione. non so se riuscirà prima questo video o quello dell'Aimai che ho già registrato. Non so, magari farò uscire prima questo. E grazie per l'accompagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti, se vi piace qualcosa in particolare. E se avete qualche idea in particolare per un video, perché si accettano consigli. E io vi auguro la buonanotte e al prossimo video. Ciao ciao!